È la storia degli uomini di mare che hanno vissuto nella Tonnara e per la Tonnara, quindi non soltanto i trapanesi ma sia i siciliani che i sardi. È la storia della civiltà che è nata attorno alle Tonnare, con i racconti e con i volti dei protagonisti. Il regista è un siciliano, mezzo siciliano, mezzo sardo e quindi coinvolge anche le esperienze di Tonnara in Sardegna. Io sono felice per Giovanni Zoppeddu che è un giovanissimo regista, ha la sua opera prima, ha 35 anni ed è un sardo che si è sposato con una co-regionale ma poi sono venuti a stare in Sicilia e sta a Capodorlando e ama ambedue le isole, si è innamorato pazzamente del mare delle due isole ed è riuscito con un lavoro straordinario a raccontare questo mare in una maniera diversa. Pensate che si parla di Tonni e Tonnare senza far vedere un solo istante di mattanza perché quello che è riuscito a fare è a mettere in primo piano gli uomini e la cultura della Tonnara e lasciando da parte ogni forma di spettacolo. Come mai non rientra nella categoria in cui probabilmente sarebbe stato normale collocarlo che è quella dei docufilm ma invece è uno dei due film italiani in gara? L'Istituto Luce che ha prodotto il lavoro aveva pensato inizialmente a un documentario come era probabilmente più normale che fosse poi per il materiale, per le testimonianze e soprattutto per un lavoro di montaggio eccezionale per una inventiva del regista straordinaria è diventato davvero un film il racconto sceneggiato di secoli di storia e l'Istituto Luce, ribadisco, ha scelto di scriverlo nella selezione dei film ed è stato scelto uno dei due 11 lavori italiani.